Il GABA è ciò che rasserena il nostro cervello sostanzialmente. Cari amici, eccoci ad un nuovo incontro in cui parliamo di molecole e la molecola di oggi sarà un amminoacido, la glutamina. La glutamina è un amminoacido molto importante, è anche l'amminoacido più comune che noi abbiamo con l'alimentazione, quindi qualcuno potrebbe dire ma è inutile prenderlo, ma in realtà l'esperienza insegna che invece è molto interessante in molte problematiche. Si chiama anche amminoacido non essenziale perché in realtà ci sono altri amminoacidi a cui questo amminoacido può essere sintetizzato, leggo qui nel mio libro sugli amminoacidi che vi consiglio tra l'altro certamente di studiare, di leggere e di studiare, un libro bellissimo questo perché tra l'altro alla fine di questo libro c'è un repertorio in cui tantissime anattie, ci sono moltissime anattie che vengono messe in rapporto con gli amminoacidi che servono per curarli. Quindi il libro è veramente fondamentale. Dicevo che questo amminoacido viene sintetizzato partendo magari dall'arginina, dall'aronitina, dalla prolina, dall'acidofactica glutale e così via, quindi sono tante sostanze da cui può essere sintetizzato. E qui però uno dice allora ce n'è tanto, sì è vero però è un amminoacido così importante, un amminoacido di cui sono così avide le cellule del nostro organismo che vale la pena molto spesso supplementarlo. Supplementarlo quando? Quando dobbiamo stimolare l'anabolismo, ovvero per esempio se qualcuno, pensiamo alla sarcopenia senile, per esempio gli anziani con l'età perdono gli ormoni, per esempio il somatotropo, l'ormone somatotropo è quello che governa la massa muscolare, perdono massa muscolare e perdendo massa muscolare poi diventano anche diabetici perché è grazie al muscolo che lo zucchero viene utilizzato e c'è l'effetto antidiabetico, sostanzialmente di abbassamento della glicemia. Quindi questo amminoacido è importantissimo per la sarcopenia dell'anziano, perché va tra l'altro a stimolare direttamente l'ormone somatotropo, ma è importante tantissimo per esempio negli atleti, i quali hanno bisogno di massa muscolare e di forza muscolare. Non solo, ma è importante in tutte quelle cellule che si riproducono vorticosamente, quindi hanno bisogno continuamente di avere qualche mattone di costruzione. Quali sono queste cellule? Sono per esempio le cellule della mucosa intestinale che cambiano ogni pochi giorni, la nostra mucosa intestinale cambia, sono le cellule del sistema immunitario, per esempio i linfociti e così via, sono i fibroblasti a livello dei tessuti e così via. Quindi noi capiamo che questo amminoacido è estremamente importante per tutti questi aspetti. Questo amminoacido viene metabolizzato nel mitocondro e viene liberato all'interno del mitocondro la parte tossica dell'amminoacido, che è l'NH4, la parte amminica, e quindi questo amminoacido innesca, è importantissimo, entra nel ciclo dell'urea, che è un ciclo di depurazione dell'organismo, delle sostanze azotate. Quindi è importante questo amminoacido per il sistema immunitario e tra l'altro pensiamo anche a questo momento anche in cui abbiamo avuto il Covid, il Covid uccide attraverso l'infiammazione, l'infiammazione tessutale della fase acuta, e per esempio ricordiamo che questo amminoacido diminuisce per esempio i livelli di interleukina 6 e di interleukina 8, che sono molto pericolosi per l'infiammazione in generale e per l'infiammazione anche polmonare in particolare. Quindi io direi che in questo periodo epidemico per esempio farebbe bene prendere una certa quantità di glutamina, ecco come concetto, perché più noi abbassiamo i livelli infiammatori e più alziamo invece il rifornimento della nostra cellula, meglio è. Poi è importante ovviamente anche per il sistema nervoso, perché l'acido, la glutamina è quella da cui si forma l'acido gamma amminoblutirico, ovvero il GABA. Il GABA è l'elemento di stabilizzazione del nostro cervello, quello che deve proteggere, ne ho parlato tante volte, il nostro cervello dallo stress sostanzialmente, quindi è estremamente importante. Quindi è utile in tutte quelle malattie in cui c'è carenza di GABA e tra queste citiamo la schizofrenia, per esempio citiamo l'invecchiamento cerebrale, gli anziani diventano più irritabili, tipicamente anche io a volte sono molto più irritabile, perché c'è una carenza di GABA. Il GABA è ciò che rasserena il nostro cervello sostanzialmente, ed è importante quindi anche per l'ansia, per la repressione, per l'ADH, per la sindrome di iperattività, l'ADHD dei bambini, quindi è estremamente importante. Quindi amminoacido fondamentale e quindi per lo sport sostanzialmente, perché ovviamente lo sportivo deve avere una notevole forza muscolare, però deve essere anche tranquillo, lo sportivo non può soccombere allo stress, ovviamente, e quindi questo amminoacido da un lato aumenta la struttura muscolare, dall'altro però aumenta il GABA a livello centrale, cerebrale, è estremamente importante per lo sportivo. Quando è che non dovremmo, probabilmente, vediamo anche le controindicazioni, dare questo amminoacido, non dobbiamo esagerare con questo amminoacido se per esempio c'è una patologia neoplastica, perché si è visto che le cellule neoplastiche, le cellule del cancro, sono estremamente avide, come tutte le cellule a rapido accrescimento, come le cellule immunitarie, le cellule intestinali, sono estremamente avide di questo. Limita anche il desiderio di alcol, di cioccolato, di droga, di sigarette, eccetera, perché uno desidera sigarette, alcol, droga, eccetera, perché è lo stress che fa desiderare queste cose, quindi più noi diamo la glutamina, più si forma quel GABA, che dà quell'effetto di rasseneramento, tu vedi la sigaretta, il dolce, ma non mi fa bene, e non lo prendi, naturalmente. E dopo l'altra cosa, che è molto importante, perché non solo stimola la produzione di GABA, ma anche quella di glutatione, e quindi diventa anche un antiossidante molto, molto importante. Come lo prendiamo la glutamina? Dobbiamo assumerla in diversi momenti della giornata, per esempio, un'ora prima dello sforzo fisico, insieme con dei carboidrati, per favorire una prestazione esportiva ottimale, di 500 mg un grammo prima dello sforzo, è estremamente importante. Oppure, subito dopo l'allenamento, entro 30 minuti dopo l'esercito fisico, insieme a molti liquidi e ad amminoacidi ramificati, per favore il recupero dei processi anabolici cellulari, per impedire che le strutture muscolari siano in parte distrutte. E può essere preso anche, per esempio, nell'anziano, a digiuno, prima di coricarsi, perché durante la notte la glutamina, in fase soprattutto ipoglicemica, stimola la secrezione di quell'ormone somatotropo che è quello che poi forma sostanzialmente il nostro sistema muscolare. Per esempio, c'è una patologia molto frequente nell'atleta che è la sindrome da sovraffaticamento, da sovraallenamento, il quale è legata, che porta tra l'altro molto spesso a dei problemi anche immunitari. E allora si è visto che la somministrazione di glutamina e di amminoacidi ramificati è estremamente importante nel periodo di sovraallenamento per potenziare il sistema immunitario e per evitare che l'atleta cada nello stress. Vediamo anche un rapporto con altri amminoacidi, vediamo che c'è un rapporto tra la glutamina, che è quella che dà in fondo energia anche a livello mitocondriale, e con l'arginina. L'arginina è importante perché innesca lo stimolo anabolico, la glutamina attiva la produzione di energia e poi arriviamo a un altro amminoacido, anche questi tre amminoacidi molto importanti e collegati, che è la lisina, la quale attiva le difese immunitarie ed impedisce che su un sovraallenamento o su uno stress si inserisca eventualmente anche una patologia virale. Ricordiamoci che i quattro amminoacidi, glutamina, lisina, ornitina e l'arginina censata per la struttura muscolare. Poi naturalmente l'infiammazione intestinale, il tessuto intestinale perde cellule ed ecco che è importante dare un rifornimento all'anabolismo delle cellule intestinali e anche quando c'è deficit mnemonico o anche quando c'è una convalescenza, quando c'è lo stress, quando c'è l'ansia, la depressione, i deficit immunitario, tutte queste situazioni richiedono questo amminoacido. Quanto se ne usa di questo amminoacido? Se ne usa a seconda dei casi. La dose consigliata è dai 1000 ai 1500 mg al giorno. Quindi effetti anticatabolici, effetti anabolici, effetti immunostimolanti, effetti antiossidanti e effetti mucoso protettivi e rigeneranti sulle mucose. Quindi in realtà questo amminoacido si inserisce molto molto bene anche nel concetto dell'anti-aging. Arrivederci al prossimo incontro. iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.